benvenuti a questo webinar dedicato sostanzialmente a un update sulle soluzioni di switching presenti nell'estino e future nell'estino cioè sostanzialmente vediamo un po uno spaccato di quelle che sono le soluzioni e vediamo anche un po quali sono gli elementi tecnici che le contraddistinguono a grandi linee ovviamente e quali sono le differenze poi tra le varie famiglie diamo perciò partiamo proprio con la prima slide e come sempre come all'inizio di questa presentazione inserisco una slide di sostanzialmente di classificazione per inquadrare un po quelle che sono le soluzioni di livello switch presenti nell'estino di link attualmente sono di tre tipi unmanaged smart cloud e manager e poi a livello trasversale il più è che diciamo un protocollo aggiuntivo è trasversale a livello di queste tre periferiche questi tre elementi a manager sono le soluzioni classiche non gestite smart cloud sono risoluzioni che nell'ultimo tempo hanno sempre avuto maggiore impatto all'interno sostanzialmente delle vendite e dell'installazione sono soluzioni che si contraddistinguono soprattutto per essere di semplice uso perché prevedono appunto la configurazione via web in alcuni casi hanno anche la porta di console ma diciamo che in realtà lo scopo principale è appunto quello di averli configurati via web in modo appunto semplificato si sono aggiunte poi le soluzioni cloud che in realtà non sono altro che delle soluzioni che si configurano via web ma non in modo locale ma tramite il cloud per cui adesso vedremo parleremo appunto di queste soluzioni particolari che riprendono il nome di nucleus cloud come forse qualcuno di voi saprà già e praticamente infine poi ci sono le soluzioni manager che sono le soluzioni classiche perciò quelle soluzioni completamente gestite che nascono copra gameplay che però possono essere completamente gestite e ovvio che sostanzialmente fanno parte di quella famiglia di prodotti che in realtà sono di fatto di una fascia notevolmente superiore rispetto appunto a alle soluzioni a manager smart per cui coprono poi tutta quella fascia di soluzione che va dalla fascia intermedia alla fascia più alta per cui di fatto copriamo un po tutti gli aspetti all'interno di questo punto di queste soluzioni appunto vi dicevo il più è che si viene a declinare con le varie suoi standard secondo appunto della macchina e il suo power budget che identifica poi la capacità elettrica che ha uno switch di poter appunto alimentare le varie periferiche gli switch che noi classifichiamo sono di tre livelli sostanzialmente quelli per mac address che vengono chiamati LL2 quelli che vengono chiamati L3 light oppure L2 plus che sono la stessa cosa sono quelli a macchine che sostanzialmente hanno la possibilità di essere configurate a livello del routing statico cioè perciò di fare quello che viene chiamato in gergo l'intervuran routing mentre per il livello 2 si parla di macchine che possono anche essere plug and play per cui nel livello 2 c'è sia la macchina plug and play a manager per intenderci che non può essere configurata sia la macchina anche lei plug and play ma configurabile nell'eventualità che è la macchina punto manager smart o quello che è sul livello 3 ovvio che pur essendo sempre ripeto tutte le macchine di partenza plug and play per cui uno non è obbligato a configurarle può anche installare e inserire e non è che configurare l'IP e funzionano a livello ovviamente minimale qua nei parametri dell'E3 light barra L2 plus è ovvio che all'interno si trova una configurazione da fare che non può essere che necessariamente non 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 plug and play cioè nel senso che vanno configurati per cui ovvio che l'intervuran routing cioè la comunicazione tra le vlan barra routing statico cioè la creazione di sub tp anche differenti che comunica una tra di loro va configurato ma in questo caso viene fatto a livello di rotte che vengono inserite staticamente perciò è un livello più semplice della configurazione sopra a chiusura di del tipo di configurazione possibile ci sono poi le periferiche di livello L3 barra superiore che praticamente implementano oltre a implementare quello che è già presente dalla parte L3 light barra L2 plus implementano anche dei protocolli di routing dinamico cioè che in pratica sono in grado di tracciare le rotte in modo dinamico e cambiarle in funzione anche del dello stato della rete per installazione ovviamente più grandi anche in questo caso ovvio che si va verso tipo di installazioni che necessariamente non possono essere plug and play perché gli apparati in quel caso vanno ad essere configurati questo è perciò la classificazione che noi diamo all'interno degli switch in base a come non tanto alle porte o al fatto di essere poe ma in base alle specifiche di configurazione possibili che sono che si possono fare appunto all'interno dello switch stesso ora andiamo a vedere un attimino il product portfolio cioè andiamo a vedere perciò sostanzialmente quali sono le soluzioni non parleremo di solo soluzioni proprio inteso come codice ma essendo questa anche presentazione anche più tecnica rispetto a una composizione commerciale affronteremo anche dei temi tecnici a livello basico ovviamente non approfondito legato alla soluzione stessa il primo concetto che voglio approcciare con voi quello dello staking fisico cioè vediamo un attimino come si è evoluto lo staking fisico e capiamo cos'è lo staking fisico e vediamo come sostanzialmente all'interno delle nostre soluzioni può essere configurato cos'è intanto lo staking fisico è una modalità per cui in realtà gli switch tra di loro si possono impilare cioè si possono appunto collegare ma a livello di collegamento mentre nel collegamento classico che viene chiamato uplink gli switch sostanzialmente rimangono di fatto indipendenti uno dall'altro per cui va di fatto configurato uno switch uno per volta nella modalità di staking si viene a creare un unico switch logico che si trova all'interno della rete e perciò è quello che in gergo viene chiamato anche virtual chassis per cui di fatto un sistema per cui io vado ad aggiungere diverse unità all'interno della rete in funzione appunto delle caratteristiche delle macchine stesse e di fatto ho un sistema per cui ho un'unica macchina logica all'interno della rete cosa vuol dire avere un'unica macchina logica vuol dire avere un'unica configurazione centralizzata ad esempio le vlan sono un'unica vlan una rete virtuale che comprende tutte le porte che sono all'interno dello staking e non diverse vlan come dovrebbe essere una configurazione in uplink e questo porta anche con sé una serie di altre funzionalità negli anni questa modalità che era partita sostanzialmente come modalità fatta tramite cavi proprietari pian piano si è spostata verso non solo velocità più elevate per cui si era partita da connessione gigabit adesso sono in connessione 10 gigabit 40 gigabit fino ai 100 gigabit ma anche verso cavi proprietà standard cioè perciò man mano si è spostata in alcuni casi dall'utilizzo di un cavo particolare all'utilizzo di un cavo che è normale tradizionale che può essere un cavo in rame o può essere appunto un cavo dac che comunque vi ricordo sono dei cavi standard a tutti gli effetti perciò possono essere usati anche cavi di terze parti che non sono altro che cavi in rame con delle terminazioni di mini gigabit fibra per poterli inserire nelle porte fibra ma in realtà si parla di cavi oppure di utilizzare la fibra ottica appunto per la connessione dello stacking l'altra cosa che è successa negli anni è che mentre all'inizio le porte di stacking erano sempre delle porte dedicate per cui se non venivano utilizzate rimanevano porte di fatto non utilizzate la tendenza che poi si è avuta nell'ultimo tempo è quella di utilizzare invece delle porte standard e questo cosa vuol dire che le macchine quando arrivano quando vengono installate all'inizio hanno la modalità di stacking che è disabilitata di default per cui un approccio diverso rispetto al passato non più porta proprietaria con lo stacking già attivo di default sulla porta proprietaria per cui l'utente non doveva fare altro che collegare il cavo e già trovava tutto nella questa modalità invece la porta di stacking è una porta normalissima che può essere perciò utilizzata per altri scopi ma che se attivo sostanzialmente diventa una porta di stacking quando si attiva la porta di stacking automaticamente quando si attiva lo stacking automaticamente si attiva di solito normalmente le ultime due porte logiche all'interno dello switcher però vi ricordo sempre che si attivano coppie cioè di fatto se io attivo la porta 25-26 dello switch per lo stacking non solo posso utilizzare la 26 ma anche la 25 la posso usare se non utilizzo la 26 la 25 comunque non può essere utilizzata per altri scopi perciò di fatto la porta viene riservata perché nello stacking è possibile farlo sia in modalità cavo singolo cioè switch-switch senza chiudere oppure switch-switch con chiusura su un altro switch come si vede nella figura di destra in altro per cui creare un anello perciò di fatto vengono riservate due porte o più a seconda della configurazione per permettere appunto di fare questa cosa ovvio che io consiglio sempre di costitare perciò un cavo per ogni switch in modo da fare un anello alla fine perché non vale la pena avere il singolo cavo se non per il risparmio del cavo giusto della connessione che può essere quella di chiusura questo perché poi con la chiusura si ha una connessione bidirezionale si ha perciò un aumento di banda, si hanno una serie di benefici che con l'utilizzo del singolo cavo non si hanno vediamo questo punto vediamo un po' questo punto quali sono le modalità sostanzialmente che praticamente sono disponibili all'interno dei vari switch allora cominciamo a parlare di capacità dello switch ci sono alcune macchine che sono in grado di avere 40 gigabit perciò utilizzare due porte per lo stacking ci sono macchine che invece permettono di utilizzare quattro porte per lo stacking e ottenere 80 gigabit considerate sempre che sono porte in alcuni casi ecco che sono porte appunto in alcuni casi che sono da 10 gigabit qui mi sono fermato un attimo perché in realtà qua in questo esempio ho indicato solo porte 10 gigabit ma sappiate che in realtà poi esistono anche dello switch come la serie di XS3610 che in realtà possono utilizzare delle porte da 100 gigabit per cui in realtà questa cosa che vedete in alto cioè questi schemi sono validi queste limitazioni ad 80 gigabit sono validi solo per tutte le macchine esclusione di XS3610 che vedrete meglio sostanzialmente utilizza non più connessioni a 10 gigabit ma utilizza connessioni da 40 a 100 gigabit per cui ovviamente la banda è notevolmente superiore però a parte di XS3610 che ha un suo discorso particolare perché è proprio qua lo stacking con porte più performanti tutti gli altri utilizzano porte da 10 gigabit quando perciò si utilizza porte da 10 gigabit che sia Fibra o RAM adesso vedremo le varie declinazioni nelle varie macchine si considera sempre il doppio della banda cioè la parte, la porta è 10 gigabit ma siccome l'anello è bidirezionale si considera 20 gigabit due porte utilizzate 40 gigabit stessa cosa per l'80 sempre quattro porte da 10 gigabit considerate sostanzialmente ognuna da 20 non da 10 diventano 80 gigabit nelle varie declinazioni delle varie macchine poi è possibile fare che cosa? o il collegamento tramite porte SFP Plus oppure il collegamento tramite due porte SFP Plus oppure quattro porte oppure utilizzare anche il 10 gigabit RAM solamente 10 gigabit RAM oppure utilizzare il modalità ibrido cioè 10 gigabit RAM più Fibra perciò di fatto cosa abbiamo alla fine se andiamo a declinare un po' nelle varie soluzioni abbiamo che andiamo nel specifico di una singola macchina la serie di XS3006 supporta quattro unità ed è l'unica macchina in questo momento che ha un cavo proprietario cioè di 50 cm che ha un suo codice questo cavo ha una banda di 120 giga e si possono utilizzare due porte per cui questo sistema è fine a se stesso nel sistema di XS3610 che poi esploreremo a breve un po' più nel dettaglio noi utilizziamo delle porte da 40 e da 100 gigabit Fibra ottica e oppure dei cavi DAC che ovviamente stanno per essere inseriti all'interno del nostro portafoglio e qua possiamo avere fino a 1200 gigabit nella sua soluzione migliore con 6 porte da 100 gigabit anche qua vedete 6 porte da 100 gigabit che diventano il doppio arrivando a 1200 gigabit qui abbiamo una soluzione utilizzando la fibra ottica oppure dei cavi DAC i DAC sono i Dara Touch Cable con i cavi che dicevo prima sono quei cavi che hanno sostanzialmente per brevi distanze sono rame che terminano come due pseudo mini GB in fibra ottica per essere potere inserire nella fibra per cui si utilizzano le porte Fibra ma per poi convertirle di fatti in rame per brevi distanze avendo a disposizione quella banda ideale per che cosa? perciò questi cavi DAC ideale ovviamente per quando i switch si trovano nello stesso REC per cui risparmio soldini relativamente all'utilizzo della fibra che non ho bisogno di mini GB che lo spezzano in fibra i GB che sono i transsever in fibra per chi non lo sa e sostanzialmente utilizzo questi cavi DAC che mi permettono appunto di su brevi distanze di ovviare all'utilizzo appunto della fibra per fare questo collegamento vi ricordo che il cavo DAC può essere utilizzato sia per lo stacking ma anche per l'appling anche qui lo stacking ovviamente è disabilitato per cui va abilitato nella serie di XS3004 che è una famiglia anch'essa 10 GB per cui quelle che iniziano con la DX sono tutte famiglie 10 GB utilizziamo invece la tradizionale fibra 10 GB oppure il DAC e qua si possono connettere fino a 4 puoli 3630 che è una soluzione sostanzialmente gigabit è analoga alla serie di XS3004 se non per il fatto che permette di collegare fino a 9 unità e però come vedete le altre modalità sono identiche la serie 3130 così come vedremo con la serie 1520 alla fine invece differiscono un po' a tutte le altre perché permettono di fare che cosa? di fare perciò questo sistema di stacking ibrido perciò si possono utilizzare che cosa? la fibra ottica o le porte 10 GB RAM per fare lo stacking sono dotate ognuna macchina di due porte 10 GB RAM oppure i DAC perciò cosa succede? è che queste macchine possono anche fare lo stacking senza avere cavi ulteriori perché si possono utilizzare le porte 10 GB RAM è ovvio che poi serve il cavo, il RAM la patch per collegare i due switch per cui di fatto con questo sistema si va anche verso che cosa? si va anche verso un futuro stacking ha rogato per alcune macchine soprattutto per quelle gigabit ovviamente meno per quelle 10 GB per questione di omogeneità sostanzialmente verso lo stacking appunto tramite porte RAM e non più tramite solo porte fibra infine abbiamo la serie DGS 1510 che rappresenta un po' l'entry level di tutta questa famiglia di macchine di stacking perché poi mette fino a 6 unità anche qua fibra TG e due porte a 40 GB e la serie 1520 che si affianca alla serie 1510 che di fatto implementa fino a 8 macchine rispetto alle 6 del 1510 e qua vediamo la presenza anche qua dello stacking ibrido oltre al fatto appunto di come si vede nel disegno in alto a destra di poter collegarsi a 4 porte in queste modalità a scelta tutto questo si riflette appunto nell'utilizzo poi di che cosa? dei transceiver che sono disponibili all'interno del sistema e dei cavi come vedete il numero di unità che all'interno del sistema si sono e vengono inserite sono aumentate perché una volta avevamo solo i transceiver da 1 gigabit barra 10 gigabit adesso abbiamo i transceiver da 25 gigabit vedremo adesso che in quale utilizzo in quale macchine vengono inserite all'interno quelli da 100 gigabit e quelli da 40 gigabit più i cavi da retaccio per cui questi cavi rame pseudo fibra che soltanto anche esse riprendono un po' la geometria di tutto quello che è sopra per cui il cavo da un metro che è 10 gigabit i cavi da 3 metri che vengono chiamati QS FIP plus quello che è insomma con questa sigla un po' anche difficile da 40 gigabit i cavi da 25 gigabit i cavi da 100 gigabit 4XS che come si vede dalla foto è uno splitter sostanzialmente parte da una connessione a 40 gigabit e può andare a servire quattro macchine con quattro porti 10 gigabit per cui più che altro serve per fare una connessione tra quattro macchine 10 gigabit verso una porta 40 gigabit di una macchina ovviamente che supporta il 40 gigabit per cui di fatto perché inserisco questa slide perché è importante più che altro per voi capire quali sono le distanze che sono fattibili nel caso si usa la fibra ottica per poter fare i collegamenti sostanzialmente di stacking mentre per i cavi di TAC lì siamo legati alle distanze che il cavo ha perché noi sono una TAC a distanza da un metro e da tre metri per cui distanze piuttosto corte perciò tutto questo comporta questa scelta per quanto riguarda il 10 gigabit rame che qua non è inserito come cavo in mano a patch vi ricordo che il 10 gigabit rame in modalità stacking noi consigliamo la categoria 7 come tipo di cavo per quanto riguarda la connessione in stacking tra le macchine nel caso di utilizzo delle porte 10 gigabit rame ora andiamo un attimino fatto questo escursus iniziale andiamo a vedere un po' quali sono le famiglie attuali che sono disponibili per quanto riguarda la serie 10 gigabit cosa vediamo un attimino vediamo che in realtà vedremo che la serie di XS1210 si evolve e vengono inserite delle nuove macchine con la serie di XS3004 è ancora presente a listino poi adesso andremo a vedere un po' più in dettaglio cos'è c'è una famiglia di XS3006 che diciamo la verità è presente a listino ma andrà in phase out in un prossimo futuro perché viene sostituita dalla serie di XS3610 che è una nuova famiglia che adesso andremo a vedere nel dettaglio e infine la serie di XS5000 come si vede un po' nella slide partiamo dalla serie 1210 è la famiglia più entry level per quanto riguarda la parte di 10 gigabit poi pian piano saliamo all'XS3004 che è sempre con la L3 light e poi andiamo verso la L3 full per cui anche con una questione di performance sempre maggiore partendo dalla scaletta 36000 36000 36000 36000 che rappresenta l'evoluzione finale della gamma di D-Link che presenta l'interno degli stili vediamo un po' la famiglia di XS e di QS 5000 senza andare proprio nel dettaglio specifico di ogni singola porta abbiamo a listino sostanzialmente quattro unità queste quattro unità si differenziano tra di loro per la presenza di porte differenti cioè perciò nella serie di 54S barra SI abbiamo 48 porti 10 gigabit SFP plus più 6 porte da 40 gigabit QS SFP plus e infine poi vediamo si vede chiaramente che c'è una declinazione relativamente alle porte cioè perciò se prendiamo ad esempio l'ultima soluzione nella tabella cioè di QS di QS 5000 32 Q28 barra SI sostanzialmente siamo nella famiglia di fatto di 32 porte 100 gigabit cosa sta per SI sta per standard image l'immagine standard per ora abbiamo inserito questa in realtà questa standard image comprende tutte le funzionalità di un layer 3 full però in realtà esiste anche una versione particolare che permette di avere ulteriori funzionalità più avanzate ad esempio la possibilità di andare a fare delle customizzazioni particolari a livello delle MPLS perciò diciamo che in realtà abbiamo ritenuto più che sufficiente lasciare all'interno di destino la versione 6 perché già copre sostanzialmente quello che sono le richieste nostre e in generale del mercato sostanzialmente essendo una soluzione veramente molto completa sulla destra vediamo un po' come sono declinate le varie porte quello che è importante è ricordarsi che esiste un corpo forte che si trova sulla sinistra che viene declinato in funzione sostanzialmente un attimino di quello che sono la velocità delle porte stesse e sulla parte destra la cosiddetta parte di uplink dove ho ad esempio nella prima macchina il 54S porti 10 gigabit e nella seconda parte 40 gigabit di andare in quelle macchine poi che sono moto diciamo velocità tipo l'ultima di QS5000 in realtà non esistono porte uplink perché tutte le porte poi sono a medesima velocità esiste poi una parte finale destra che vedete che è la cosiddetta porta di gestione che va dalla porta di console alla porta di outband management cioè una porta RJ45 gigabit che si usa per il management e una porta USB anch'essa utilizzata appunto per il management oppure per il salvataggio della configurazione perché poi diciamo tra virgolette una serie di porte di servizio che vengono legate sostanzialmente alla macchina oltre a questo poi guardando dal punto di vista posteriore abbiamo un corpo ventole e un corpo alimentazione cioè di alimentazione ovviamente rintondata all'interno del sistema stesso andiamo adesso a vedere la novità di XS3610 la serie di XS3610 si compone sostanzialmente la nuova serie si compone sostanzialmente di due macchine di XS3610 54S e 54T S sta praticamente SFP perché in realtà è una macchina che ha di fatto come vediamo un attimino tutte macchine tutte porte SFP plus 10 gigabit e poi come vediamo anche la possibilità di avere queste sei porte da 40 gigabit barra 100 gigabit predisposte perciò per l'inserimento sostanzialmente di mini GB da 40 da 100 gigabit in generale quando la porta supporta il 100 gigabit è in grado di supportare il 40 ma non di supportare il 25 o il 10 questo è il caso anche di questa macchina perciò le porte da 100 gigabit possono essere anche utilizzate i transceiver da 40 ma non possono essere utilizzate le ripeto transceiver da 25 o barra 10 per cui non possono declinare per esempio fino a 10 gigabit e perciò di fatto queste porte sono utilizzabili con questi due tipi di transceiver sono le stesse porte che adesso vediamo verranno utilizzate per lo stacking per cui lo stacking si fa tramite queste sei porte o meno a seconda della configurazione e possono essere appunto collegate tra di loro è pensato proprio per essere un po' in linea con quello che sono le porte 10 gigabit cioè io faccio uno stacking appropriato tenendo conto che da una parte ho un volume di porte che sono 48 10 gigabit nella 54S sono fibra nel 54T sono rame per cui 48 porte 10 gigabit rame lo stacking è possibile fino a 12 unità e tramite la licenza opzionale che si chiama EI anche qua ho la possibilità di aggiungere delle funzionalità di routing come il BGP e il MPLS perciò la macchina già comprende una serie di funzionalità per il routing dinamico ma se queste funzionalità non sono sufficienti perciò di fatto devono essere aggiunte si può acquistare una licenza opzionale per cui non sostituire la macchina ma acquistare una licenza da aggiungere che sblocca sostanzialmente la parte BGP e MPLS la macchina è lo switch già completo di funzioni OpenFlow e MaxSec per cui adatto per tutta una serie di funzionalità legate alla gestione sostanzialmente dello switch stesso e ha funzioni anche di RPS e OAM RPS per la creazione di anelli col protocollo Ethernet Ringer Protection Switching e ovvio a questo ha anche una serie di altre funzionalità che sono legate alla ridondanza dell'alimentazione al swap fan perciò di fatto una macchina in linea con quello che è di fatto il mercato di queste macchine di core qui sotto poi trovate un po' anche quelli che sono i codici sostanzialmente che compongono sostanzialmente la soluzione a partire dalla macchina ma anche degli accessori che praticamente ci sono tutti i modelli hanno il medesimo sistema di fan elementatori di default e devono spediti con lo switch e due alimentatori front back e cinque ventole perciò di fatto quello che voi gli accessori che vedete sotto sono solo accessori di ricambio oppure perché se volete sostanzialmente cambiarli mettendone uno un po' più potente rispetto all'altro ma in realtà vengono già forniti all'interno del sistema stesso oltre a questo è stata inserita che cosa anche un'etichetta che vedete col punto 5 con informazioni sullo switch è un sistema che abbiamo pensato di inserire a partire da questo switch ma che poi sarà inserito in altre macchine che è un tag un'etichetta frontale dove l'utente vede una serie di informazioni di rassunto della macchina che gli permettono perciò di agevolare anche della lettura dell'informazione della stessa macchina nel momento in cui ha bisogno di verificare alcune determinate cose e poi c'è anche una parte sopra in alto a sinistra una parte rassuntiva di led che porta una serie di informazioni vediamo un attimino come si fa lo stacking fisico all'interno di questo DXS 3610 lo stacking fisico abbiamo detto che si può fare fino a 12 unità l'abbiamo già spiegato un po' all'inizio e lo stacking è possibile tramite due porte 40 100 gigabit fino a 400 oppure sommandone 4 sommandone 6 ovvio che più ho porte più ho banda che si muove all'interno dell'anello anche qui l'anello è bidirezionale posso andare ad utilizzare le porte sostanzialmente i cavi DAC o fibra se utilizzo i cavi DAC sono legato alla distanza che è ovviamente limitata di un metro o poco più sostanzialmente per cui per spazio di un metro o tre metri il cavo da tre metri serve per la chiusura il cavo da tre metri per ora da 100 gigabit non è ancora a listino ma sarà inserito per cui più che altro serve per la chiusura perché permette di chiudere le strutture tra di loro ovvio che nel caso però che queste distanze siano distanze non fattibili è possibile utilizzare la fibra ottica con i suoi transceiver e stessa cosa si può fare tra edifici per cui sostanzialmente quello che viene chiamato cross building cioè sostanzialmente la connessione tra edifici e tra lo stacking e anche qua si possono fare in funzione del di Gbic diciamo che oltre i 10 km con transceiver monomodale non è possibile andare per fare lo stacking però serve perciò un transceiver monomodale da 100 giga che possa fare questo lavoro ed è tutta grazia perché alla fine come ben capite si parla di una banda notevole sostanzialmente all'interno del sistema perciò diciamo che dovete inquadrarlo in quel modo se io dovesse riassumere tutto dovete inquadrarlo sul fatto che le porte non possono utilizzare per lo stacking il 10 gigabit o il 25 per cui lo stacking è 40 o 100 giga così come le porte le supportano solo 40 a 100 giga poi c'è la scelta di quante porte coinvolgere all'interno del sistema che si fa via software per cui uno può di default attivare la funzione che è default è 2 o puoi aggiungere 4 oppure se a seconda di quello che va a configurare infine c'è la scelta di utilizzare la fibra ottica oppure il rame questo è un po' un concetto sono concetti in generale che comunque riprendono un po' quello che è il concetto di stacking che si vede all'interno di questo tipo di soluzione dicevamo che esistono due licenze la licenza SI e la licenza AI cosa aggiunge la licenza AI aggiunge il BGP e l'ISS che sono i protocolli di L3 routing poi aggiunge i protocolli di multicast a livello L3 più che il GMP che non è proprio a livello L3 ma più che altro aggiunge la versione server dell'IGMP la versione stuping è già presente nella versione tradizionale e poi l'MPLS con tutto il suo corollario di protocolli che possono essere inseriti e configurati all'interno del sistema i codici di licenza li trovate poi scritti nella slide per quanto riguarda una tabella risuntiva di un po' queste tre soluzioni che abbiamo approcciato all'inizio perciò cosa possiamo vedere possiamo vedere che in realtà l'XS3610 rappresenta un'evoluzione notevole rispetto all'XS3600 a livello di banda di capacità più che altro io vi segnalo che di fatto è una soluzione che riprende il 3600 e perciò lo migliora e dall'altra parte è più scalabile rispetto anche alla serie di XS5000 perché è vero che la serie di XS5000 è una buona serie però anche questa macchina come vedete rispetto alla serie 5000 ha la possibilità di essere configurata via web cosa che ad esempio la serie di XS5000 non può fare perché viene configurata solo esclusivamente via cli rappresenta perciò per noi un elemento di convergenza tra quello che è la serie di XS3000 e quello che rappresenta la serie 5000 che era sopra questa cosa per cui è ovvio che è un po' l'unione di una serie di elementi che noi avevamo all'interno e si rappresenta per noi il futuro del core di centro stella per quanto riguarda la fascia alta appunto delle soluzioni di link il DXS30006 come era fatto questo grande linee era fatto come una macchina che come è fatto come una macchina che ha sostanzialmente tutte le porte SFP plus e aveva poi uno slot uno slot per poter inserire dei codici opzionali il vantaggio di questa macchina era che di fatto diventava un concentratore di sostanzialmente di fibre ottiche 10 gigabit se volete lo svantaggio è che avendo uno slot solo di fatto quando io vado a inserire il modulo per lo stacking che si chiama 120 gigabit CXP Stacking questo DXS30006 e M Stacking non potevo inserire altre porte opzionali perciò in pratica nel fare stacking io non potevo inserire porti 10 gigabit RAM e altre macchine di questo genere e perciò ecco di fatto lo stacking come si fa tramite questo modulo da due porte e tramite un cavo DEMCB50 CXP che è un cavo come dicevo da 100-120 gigabit proprietario che permette di mettermi stacking fino a 4 unità è ancora una macchina molto valida perché di fatto l'abbiamo anche voluta nel senso dal livello delle funzioni del firmware di tutto quanto per quanto riguarda e poi forse ecco parlando tra di voi capisco che può anche avere un suo futuro se la guardo in funzione delle 24 porte visto che la serie XF7610 sostanzialmente è solo a 48 porte per cui ecco di fatto può avere un suo seconda giovinezza diciamo così in funzione del fatto che ha 24 porte non 48 porte con le sue specificità appunto che vi spiegavo è una macchina sostanzialmente che se la guardiamo dal punto di vista frontale ha un suo corpo porte che si trova al centro una parte sinistra che è la parte 1 che è quella relativamente alla configurazione della macchina con la porta di manager mentre la porta di console e poi quel modulo che dicevo sulla parte 3 sostanzialmente aggiuntivo che permette appunto di fare o lo stacking o di aggiungere delle porte però ovviamente in quel caso non è più presente la modalità di stacking e poi ovviamente se vediamo sempre la figura la parte 454 è quella relativa all'alimentazione rindondata barra ventole che sono anche esse hotspot dal punto di vista del software a bordo in realtà è un pochettino diverso rispetto al DXS 3610 perché DXS 3610 nasce come una macchina di fatto già la IA3 Full con l'aggiunta BGP MPLS che spesso in gergo tecnico viene denominato la IA3 Full Plus proprio perché identifica addirittura un ulteriore tassello per quanto riguarda la parte L3 ma come vediamo questa macchina nasce come L2 L layer 2 plus barra L3 Lite per cui non ha la parte di routing dinamico ma la parte di routing statico routing statico vuol dire perciò che può fare tranquillamente la centrostella e perché può all'interno una routing lo static routing e tutto quanto ma se c'è bisogno di un protocollo di routing dinamico va aggiunto una licenza che anche qua vedete nella slide si chiama XS3006 32S SE Leak che gli permette di attivare delle funzionalità di routing dinamico passando poi successivamente la serie di XS3004 è una famiglia già più conosciuta anche perché più tradizionale tra virgolette si compone in due macchine un 24 TC e un 24 SC siamo anche qua a livello a livello delle 3 light per cui del routing statico e non dinamico non c'è molto da dire perché parte di quello che abbiamo detto l'abbiamo già visto precedentemente se non per il fatto che il 24 TC è una macchina dove è prevenenza la presenza delle porte 10G bit rame e degli uplink 10G bit rame barra fibra e dall'altra parte è il contrario perciò di fatto siamo in presenza una macchina tutta fibra con degli uplink anche qua rame fibra le macchine possono essere messe in stacking tra di loro come abbiamo detto all'inizio tramite 4 porte che non sono rame per cui sono fibra per cui nel far la connessione tra le due macchine che fossero in un sistema ibrido per cui un 24 TC un 24 SC per intenderci dovrei partire da le ultime 4 porte fibra del 24 SC per andare a finire nell'ultime 4 porte del 24 SC che sono anch'essa fibra che nel disegno trovate sulla parte destra della unità che si trova sotto questo sarebbe un po' la connessione fattibile per lo stacking ovvio che ha le sue porte di console di gestione di allarmi eccetera eccetera comprese oltre a tutta la parte di alimentazione e perciò una macchina comunque molto completa da questo punto di vista perché permette appunto di fare già un concentratore di fatto con un alto livello di porti 10 G sia rame che fibra in tutte queste modalità che abbiamo detto precedentemente passando poi man mano scorrendo un po' quello che abbiamo detto passiamo alla famiglia di XS1210 nella famiglia di XS1210 che è una famiglia di switcher perciò L3 Light entry level cioè la prima sostanzialmente delle famiglie di 10 gigabit abbiamo inserito sostanzialmente due nuove macchine che vengono chiamate XS1210 28T e 28S non sono macchine di stacking per cui non possono farlo stacking ma anche loro sono delle macchine sostanzialmente con più porti di 10 gigabit vi segnalo sostanzialmente che abbiamo perciò due porte due macchine una con XS28T con 24 porte 10 gigabit e più con 4 porte di applica e l'altra con 24 porte 10 gigabit SFP Plus più 4 porte 10 gigabit di base T soprattutto il 28T cioè perciò la prima che ha sostanzialmente le porte rame ha la possibilità di avere all'interno 4 porte che sono fibra però 25 gigabit perciò è in grado perciò di passare da 25 a 10 la porta 25 stiamo capendo in realtà è pienamente compatibile con il 10 per cui la declinazione qual è? ho il 100 gigabit compatibile con il 40 ho il 25 compatibile con il 10 queste sono un po' le condizioni attuali che si trovano è ovvio che all'interno di questo sistema io posso utilizzare che cosa? poi i nuovi transceiver da 25 gigabit nella slide che abbiamo visto all'inizio oppure il cavo DAC di riferimento qui il cavo DAC non può essere utilizzato per lo stack visto che questo switch non lo supporta ma può essere utilizzato per la pling sono tutte macchine di nuova generazione che sostanzialmente hanno la configurazione via web ma hanno anche la porta di console perciò la possibilità di essere configurate anche via comandi perciò di fatto diventano se volete a tutti gli effetti un po' delle macchine managed qui è un po' alla fine di sé a tutti gli effetti tante volte vengono classificate alcune macchine come smart managed ma in realtà parliamo di macchine in realtà che possono essere configurate completamente ormai via command line interface per cui sono macchine a tutti gli effetti secondo me managed parliamo perciò di una fascia molto interessante soprattutto perché l'inserimento di queste due macchine ci permette di completare un po' l'offerta per quanto riguarda 10 gigabit se andiamo poi a vedere un attimino le connessioni siamo a livello di connessione possiamo vedere appunto l'utilizzo di tutte queste famiglie un po' messe insieme di XS1210 con le connessioni a 25 gigabit connessioni a 10 gigabit verso un core che poi sarà appunto a 3610 o di XS510 questo punto io direi di andare un pochettino più veloce anche perché un po' di concetti li abbiamo visti andiamo a vedere un attimino la parte gigabit per quanto riguarda la parte gigabit è molto più corposa il numero di unità che si trovano all'interno c'è la serie 1100 che è la basica poi abbiamo la serie 1210 che è conosciutissima la serie DBS2000 che è la serie Nucleas di Switch cioè quelle gestite via cloud e poi abbiamo la 1250 1510 1520 che abbiamo già accennato in parte 3130 3630 quali sono le novità? sostanzialmente le novità sono l'inserimento della famiglia 1520 che si affianca alla serie 1510 un'altra novità è che la famiglia 3000 andrà probabilmente phase out sostituita sostanzialmente da una nuova famiglia che non ho inserito nella slide e mi scuso con voi perché in realtà la volevo mettere dentro ma vi sono indicato di metterla che si chiama DGS2000 che sostanzialmente prenderà il posto sostanzialmente della famiglia 3000 3630 3630 rappresenta la famiglia più alta dal punto di vista degli switch per quanto riguarda la parte gigabit lo stacking anche qua fino a 9 unità si possono utilizzare 4 porti 10 gigabit SFP plus qua non ci sono porte rame per cui queste macchine sono di fatto dei layer 3 a tutti gli effetti si possono steccare tra di loro e mettere in funzione di macchine più E macchine non più E per cui creare un po' di architetture con 9 unità la macchina più E hanno la possibilità di espandersi tramite un alimentatore più E fino a 740 watt porta perciò da 370 a 740 e sostanzialmente come si può anche vedere in realtà una macchina un po' differente rispetto a tutti gli altri l'SC perché è un concentratore di fibra ottica perché ha 20 porti SFP e 4 porti 10 gigabit SFP plus per cui un po' la particolarità di queste macchine sta nell'avere questi 4 porti 10 gigabit SFP plus utilizzabili o per lo stacking o per la plink nelle varie sue declinazioni anche qui è presente una versione standard image e nansen image mpls image per cui nella versione standard image abbiamo solo routing statico per cui di partenza è una macchina che parte solo come layer 3 light ma poi con le aggiunte si possono avere una macchina che diventa layer 3 full a tutti gli effetti fino ad arrivare appunto all'mpls famiglia 3130 la famiglia 3130 abbiamo detto un po' all'inizio è un po' particolare perché in realtà è la prima famiglia all'interno di ibrida di ibrida cioè nel senso che ha delle porte pur essendo come corpo porta le porte gigabit ha delle porte anche 10 gigabit rame e fibra le porte 10 gigabit rame abbiamo detto possono essere utilizzate per lo stacking per cui non torniamo un po' a quel discorso che dicevamo abbiamo visto all'inizio per cui possono utilizzare lo stacking così come le porte fibra o insieme o separate per cui queste interfacce possono essere utilizzate per questo sistema e qua ovviamente si possono sbizzarire nelle varie connessioni ovvio che tutte queste macchine con le varie porte differenti tra di loro anche qua è presente una versione 30S ad esempio che ha tutta la fibra come elemento cardine così come le macchine Pioe che di fatto riprendono un po' la questione di quello che abbiamo visto 3630 cioè i 370 watt espandibili eventualmente a 740 tutte queste macchine appunto si possono mettere tra le loro in stacking utilizzando appunto o la fibra o il rame come abbiamo detto appunto precedentemente e perciò rappresentano un buon elemento di core perché sostanzialmente sono macchine comunque già molto affidabili senza dover andare sulla famiglia 3630 o superiore abbiamo detto della serie DGS2000 la serie DGS2000 prende un po' al posto della serie 3000 e non c'è molto da dire su questa famiglia se non per il fatto che è il classico layer 2 di accesso managed perciò configurare la porta di console con le varie suoi elementi la cosa interessante più che altro è il DGS20 2010 perché dico interessante dal punto di vista mio perché in realtà noi finora su poche porte cioè sulle porte sulle porte avevamo solo soluzioni smart cioè perciò soluzioni che non si potevano configurare con console con porta di console o porta di management anche qua in questo caso con questa aggiunta noi abbiamo la possibilità di avere una macchina perciò da poche porte pienamente full compatibile cioè compatibile a livello scusate di perciò di configurazione questo più che altro serve in senso lato delle gare o tutte quelle cose dove appunto viene inserito viene chiesto appunto l'utilizzo di una porta di console anche per macchine che hanno poche porte cosa che in una soluzione smart non è fattibile qua come si vede abbiamo soluzione da 10 da porte 28 porte complessive 52 porte complessive con macchine più e non più e un set di funzione per l'accesso completo cioè classiche funzioni come le VLAN come lo spanning tree come il controllo dei loop loop back detection jumbo frame cioè tutte quelle funzionalità in ultimo le DP e le DMED che sono ma attualmente più richieste per quanto riguarda appunto la macchina di accesso il GS3000 abbiamo detto che è una macchina che andrà in phase out come si compone si compone di 4 macchine come qua vedete non abbiamo macchine sulle 10 porte ma siamo solo in funzione di porte da 28 a 52 porte e qui tralasciando sostanzialmente le porte delle prime due macchine che sono un classico 24 più 4 porte 10 gigabit nelle altre macchine abbiamo due macchine più e una con un power budget da 193 watt e un'altra con un power budget a 370 watt che si differenziava la prima per avere oltre al power budget basso su 4 porte SFP la seconda invece per avere 4 porte SFP plus queste macchine sono ancora comunque a listino ovviamente di segnale offesato ma sono ancora a listino sono pienamente utilizzabili e sono macchine molto affidabili e ovvio che l'avvento di tutta una serie di macchine che abbiamo visto prima a partire da la serie 2000 all'arrivo del 3130 e tutta un'altra serie di macchine mettono un po' nell'angolino questa famiglia in funzione di nuove macchine appunto che sono arrivate stiamo per concludere per cui vi chiedo ancora l'attenzione di una quarto d'ora circa e andiamo a vedere un po' quelle che sono invece le soluzioni smart che in realtà come smart noi indichiamo le soluzioni configurabili preferenzabilmente via web ma in realtà in alcuni casi la configurazione è possibile anche via CLI completamente qua la cosa si è un po' evoluta perché oltre le classiche DGS 1100 1210 nelle loro varie versioni si è andata ad inserire la serie 1250 che rappresenta un po' l'evoluzione della serie 1210 perché in realtà è identica alla serie 1210 se non per il fatto di avere però 4 porti 10 gigabit SF più LAS e oltre a quello ha una CLI completa cioè la configurazione di completa e non una CLI limitata per cui la possibilità perciò di essere configurato via comandi complet 1510 una famiglia molto conosciuta per cui è una famiglia di fatto smart con lo stacking fino a 6 unità che abbiamo detto abbiamo già in parte già accennato che adesso vedremo e l'arrivo della serie DGS 1250 che come vedete riprende un po' il concetto del 3230 per quello con lo stacking ibrido con le porti 10 gigabit e ha lo scopo di evolvere la famiglia 1510 anche se la famiglia 1510 rimarrà comunque attualmente anche a salistino in affiancamento alla serie 1520 se andiamo ad analizzare la serie 1510 scusate sì 1510 vediamo sostanzialmente che si compone di queste 6 macchine 1510 20 la più piccola la cosa che si nota è che abbiamo la presenza sostanzialmente di 2 o 4 porti 10 gigabit sp più l'ass anche se la tendenza è andare sempre più sono macchine che hanno 4 porti 10 gigabit stp plus in questo caso le 4 porti 10 gigabit stp plus non possono essere utilizzate tutte per lo stacking perché abbiamo detto che questa soluzione supporta solo due porte per lo stacking ma le altre due possono essere utilizzate per l'uplink è una macchina 2 plus per cui non ha la possibilità di avere il routing dinamico e le macchine possono essere messe in stack tra di loro l'unica macchina che ha sostanzialmente l'alimentazione rindondata è il DGS 1552XMP dove può essere raggiunto il nostro DPS 700 per rispanderlo dal punto di vista poi e per l'alimentazione rindondata nel caso e ha una porta di consumo per cui è una macchina molto utile ed utile che viene spesso utilizzata all'interno della nostra configurazione la serie 1520 è invece la nuova macchina che è la Air 3 Full si compone di una macchina da 28 porte a 52 anche qui con la rindondazione può e non può e l'espansione avviene sempre nella modalità identica a tutto quello che abbiamo visto prima 370 Watt con l'espansione a 740 con il nostro DPS 700 e poi un'alimentazione nuovo un nuovo alimentazione rindondata per quanto riguarda invece le macchine non può e abbiamo detto che è una macchina sostanzialmente la Air 3 con ripo SPF che è una macchina con routing dinamico lo contraddistinguono due particolarità una che ha la possibilità di gestire le porte a 2,5 gigabit più e e l'altro che ha un nuovo tipo di alimentazione rindondata andiamo un po' adesso a vedere nel dettaglio questi due elementi qui vediamo intanto una tabella comparativa tra il 1510 e il 1520 come vediamo siamo passati da 6 a 8 unità passiamo da 6 a 8 unità abbiamo il 10 gigabit per quanto riguarda la plink e o lo stacking rame e poi abbiamo la fibra questione ibrido quali sono queste porte 4 porti da 2,5 gigabit più e sono porte che permettono di fare sostanzialmente la connessione poi a 2,5 gigabit per cui per access point che ovviamente supportano questo tipo di modalità e il nuovo RPS che si chiama a DPS 520 solo per l'unità non può poi ha tutta una serie di funzionalità che sono dal VRRP WLAN RIP o STF vediamo un po' il 1520 appunto sono queste quattro porte si possono collegare questi access point abbiamo abbiamo detto ora cosa succede se io collego un access point che non supporta 2,5 gigabit cioè PoE ma che va a gigabit funziona la porta non ci sono problemi per cui le porte possono essere utilizzate anche con apparati che non supportano 2,5 gigabit è ovvio che se perdo la capacità di andare a viaggiare a 2,5 gigabit per cui queste quattro porte sono quattro porte particolari pensate proprio per i 2,5 gigabit per mettere gli access point soprattutto di nuova generazione wifi 6 rappresenta l'ingresso di una serie di porte 2,5 gigabit perché è la prima macchina che ha questa modalità man mano però inserremo all'interno del listino una serie di macchine che avranno porte 2,5 gigabit per cui macchine che arriveranno che avranno poi solo 2,5 gigabit oppure a print con porte 2,5 gigabit come questo per cui questo rappresenta la prima finestra di ingresso per questo nuovo tipo di modalità DPE a 2,5 gigabit per supportare sostanzialmente delle nuove unità wifi 6 che ovvio avendo sostanzialmente una banda wifi molto più elevata necessitano di avere una porta LAN adeguata oltre a questo i nuovi DPS 520 rappresentano anche qua un cambiamento dal punto di vista di link per quanto riguarda l'alimentazione rinondata non utilizziamo più un sistema perciò tramite un cavo proprietario che si trova già all'interno della scatola ma che si collega posteriormente ma utilizziamo un cavo RJ45 standard a tutti gli effetti e lo andiamo collegando in che modo? dalla porta di management che si trova posteriormente al nostro alimentazione rinondata si nota anche che perciò non è più una connessione 1-1 ma una connessione 1-1 più multipli vale solo sostanzialmente per le macchine non più E non per le POE e come vedete compone di 5 porte per cui può collegare fino a ogni singolo alimentatore può andare a fare l'alimentazione rinondata fino a 5 unità che sostanzialmente si trovano collegate con lui perciò non più la connessione 1-1 come avveniva una volta come avviene ancora tuttora con le nostre macchine la maggior parte delle macchine al switch alimentatore rinondato ma la connessione 1-1 dove ho un'alimentazione rinondata unica per n macchine sotto che mi permette appunto questo tipo di connessione DGS 1210 qua c'è poco da dire se non che è una macchina come abbiamo detto che se vuole rispetto alla famiglia DGS 1210 e ha le sue solite classiche 28 52 porte con il via poi e le sue parallele applica non è una macchina di staking ecco l'unica cosa che volevo dirvi che in Q3 2021 sono previsti l'arrivo di due nuove macchine DMS verranno chiamate 250 DCTP 10SP soprattutto vi segnalo la prima cioè DMS 1250 DCTP che sarà una macchina che avrà 8 porte 2,5 gigabyte più 2 porte 10 gigabyte SFP lì c'è scritto ma in realtà sono SFP plus mentre quell'altro sono 8 porte SFP più 2 porte 10 gigabyte SFP plus a questo punto andiamo un po' a vedere la parte finale velocemente abbiamo le cosiddette soluzioni DGS 1210 che sono le classiche soluzioni smart nelle varie sue declinazioni a partire dalle 8 alle 10 che chiamano le varie power budget e poi abbiamo poi la famiglia DGS 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 1100 sostanzialmente che si è evoluta nell'ultima parte ha cambiato l'hardware diventato B1 B2 cosa è cambiato? sostanzialmente è cambiato che abbiamo adesso no scusate V2 sono confuso da hardware B1 B2 a nuova versione DGS 1100 V2 hardware 1 aumentato dal jumbo frame fino a 10k numero di code per quanto riguarda la qualità di servizio da 4.8 un accesso HTTPS tramite TLS port channel interface che cos'è? un sistema per cui quando si fa l'increggregation viene creata una porta virtuale all'interno del switch che permette anche di gestire al meglio la porta una new wizard per la configurazione e la funzione di POE PD Alive per quanto riguarda le periferiche POE che si trovano all'interno del sistema un sistema che si è evoluto per quanto riguarda la famiglia 1100 famiglia 1100 si è evoluto 50.000 unità diverse tra di loro e rappresentano l'entry level per quanto riguarda la parte manager a tutti la parte smart la parte diciamo chiamiamola così configurabile il gradino appena superiore rispetto alla famiglia sostanzialmente degli unmanaged e qua a seconda del POE delle porte delle richieste una persona va a scegliere un'unità all'altra ci sono poi le versioni 1100 10MP v2 1100 26MP v2 che si differenziano sostanzialmente da tutti gli altri più che altro perché hanno un maggiore power budget rispetto alle altre macchine hanno un'estensione di temperatura da meno 5 a 50 hanno il protocollo RPS per gli anelli e altre sostanzialmente funzionalità come VLAN maggiore quantità di VLAN e funzione asimmetrica per cui di fatto aggiungono queste modalità rispetto alle altre e infine c'è la serie 1100 di 05 PD canno suge invece il particolare senza alimentazione che serve per piccola installazione dove io arrivo col Pioe alimento una serie di porte sostanzialmente in questo caso due più altre porte normali senza avere all'interno un collegamento all'alimentazione per cui il classico apparato che può essere messo arrivo alla porta Pioe mi serve uno suicetino lì lo collego lui si alimenta tramite la porta Pioe eroga dei servizi locali per quanto riguarda appunto la connessione poi abbiamo il long range Pioe allora i long range Pioe sono i nuovi switch long range Pioe sono switch che permettono di arrivare sostanzialmente a una distanza maggiore rispetto di fatto a quello che si hanno con i centrometri del Pioe la unità di SS 110 e 9P questo l'abbiamo discusso anche per chi ha seguito di voi la settimana scorsa sostanzialmente l'aggiornamento che è stata fatta da parte commerciale è una macchina che ha 92 watt di power budget una classica macchina che Pioe che però può fare l'estensione e lo fa solo in modalità cioè sostanzialmente si presuppone già in modalità di estensione per cui uno se ha una macchina compatibile con questa modalità può collegarla fino a 250 ma è un po' diversa per cui va spiegato un pochettino di più invece la macchina sostanzialmente sotto che è la versione a 18 porte ha questo selettore che viene chiamato standard isolate extended quando il selettore si trova nella modalità standard di fatto è uno switch tradizionale Pioe per cui non fa la modalità di estensione a 250 metri ma semplicemente si occupa del classico Pioe a 100 metri nella modalità extended se ho bisogno di allungare a 100 metri metto il selettore su extended e lui predispone le porte sostanzialmente le porte Pioe a arrivare fino a 250 metri vi ricordo che però la velocità scende a 10 è un po' diverso il discorso isolated cosa vuol dire metto una modalità isolated vuol dire che le 16 porte Pioe sostanzialmente non possono comunicare tra di loro se non con le due porte con le porte gigabit che a caso sono tre perché qui abbiamo due porte gigabit e una porta combo cioè abbiamo una porta singola gigabit rame e una porta invece che è combo sfp rame cosa vuol dire che io posso comunicare solo con quelle porte perciò se io sono collegato alla porta 1 con la mia videocamera vedo solo le porte di AppLink lì nel concetto di costruzione di questa macchina è pensato di mettere un NVR cioè una macchina che faccia da concentratore per quanto riguarda la connessione non è solo visto in funzione di questo viene visto anche in funzione di altre modalità ad esempio un albergo ho bisogno di fare un client isolation lo voglio fare a livello LAN non lo faccio tramite una funzione software ma lo faccio tramite una funzione hardware lo metto in isolated le porte non comunicano tra di loro se non con le porte di AppLink dove ovviamente io andrò lì a mettere il mio router e il mio di connessione per cui ha questo tipo di scenari può essere interessante vi ricordo che è una modalità isolated però di fatto non ho la modalità standard per cui di fatto lo sto usando solo come isolare per isolare le porte tra di loro verso le periferiche le porte in GKB spero di essere stato abbastanza chiaro nel slide ho inserito anche la descrizione su queste tre modalità possibili oltre a questo siamo poi alle switch Nucleas Nucleas rappresenta che cosa perciò una soluzione dove io ho di fatto tutto centralizzato a livello della configurazione ed è in cloud supporta sia access point che switch o altre periferiche e quello che noi vediamo questa parte non è tanto la parte access point che vediamo la prossima settimana ma la parte switch la parte switch attualmente presenta una famiglia che si chiama DBS2000 che è qua anche qui è un derivato della serie 1210 ma che a differenza di quello che succede nella serie 1210 si può configurare via cloud e perciò ha la sua parte più E e la sua parte non più E è legata a una licenza di utilizzo nel momento che la licenza scade la macchina continua a funzionare ma con solo l'ultima configurazione utile che si è andata a configurare all'interno del sistema e si fa via cloud per cui è una cosa molto interessante nel momento in cui si porta il management verso un sistema cloud appunto Nucleas Cloud gestito da DBS oltre questo si vedono un po' la differenza tra le altre macchine ecco vi segnalo una cosa che di fatto la CLI è limitata anche qua l'interfaccia web è limitata per cui in realtà l'interfaccia web locale è limitata e serve solo per il Reser perché in realtà si fa tutto sul cloud e non ha routing la IR3 ma ha un set di funzioni anche a se compiere concludo questa presentazione ricordandovi switch particolari come il DPE 302GE che è un estensore POE ma anche esso di fatto è uno switch unmanaged che si alimenta tramite il POE e poi permette di espandere le varie unità tra di loro un po' come appunto abbiamo visto in questa figura e poi ovviamente rimangono sempre all'interno del nostro listino tutte le soluzioni unmanaged l'ultima delle quali è stata inserita la serie DGS 1016S che è la macchina unmanaged che è una macchina praticamente non da rec però da desktop o più lunga che ha possibilità di avere queste 16 porte che supportano il jumbo frame in modo automatico fino a 9216 bytes e al cos con 8 code e poi il switch metallici e poi vabbè le varie unità più unmanaged presenti sempre all'interno del listino infine se andiamo a vedere un po' quello che sono le nostre soluzioni vi ricordo sempre le soluzioni anche esse industriali che sono disponibili che ovviamente si differenziano per che cosa? per il fatto di avere l'alimentazione continua un'estensione di temperatura diversa un grado di protezione diversa e anche dei protocolli della famiglia manager come fast ring o le rps proprio per costruzione delle amende sono disponibili sostanzialmente 4 famiglie la 100E la 100G 200G e la 300G senza entrare molto nel dettaglio perché abbiamo già esposto diverse volte hanno range di temperatura che vanno da almeno 40 a 75 a parte 200G che ha 65 gradi ci sono unità più E non più E quello che si differenzia da 100E sono unità fast Ethernet la 100G sono unità gigabit e sono famiglie un manager per cui non configurabili la serie 200G e la 300G invece sono famiglie configurabili 200G layer 2 300G layer 3 vuol dire che ha anche DHCP a bordo e anche la possibilità sostanzialmente di fare intervalant routing cosa che invece nella famiglia 200G non si può fare e supportano portano con loro anche una serie di alimentatori sostanzialmente compatibili con il sistema più che altro la questione dell'alimentazione è legata più che altro al PUE e ovvio che sono alimentazioni in continua e a ognuno di questi porta anche un determinato consumo per cui non ragioniamo di corrente alternata ma ragioniamo in corrente continua per cui ragioniamo in questione di consumi e di alimentazione compatibili con il sistema porta con sé poi all'interno del destino una serie di codici che sono sia i transiver in fibrotica adatti per questo tipo di sistema proprio per l'esterno sia gli alimentatori da 30 60 240 480 adatti a questo tipo di installazione ovvio che concludo questa presentazione facendovi vedere un po' come sono a livello del PUE ha la possibilità di avere anche l'alimentazione rindondata a livello di connessioni vediamo un po' il 300G 200G che hanno la porta di console sono unità manager la connettore la messa a terra e via andare il fatto che sono barra DIN e poi ovviamente supportano la modalità di PUE per quanto riguarda le varie connessioni giusto per concludere sono le ultime due slide e poi vi saluto ormai sostanzialmente vediamo che hanno la possibilità di creare delle vette d'anello vi ricordo solo brevemente che nella serie 200G l'anello si fa tramite l'RPS che è un protocollo standard mentre su 300G si fa tramite un protocollo proprietario i tempi in caso sono diversi nel 300G sono 20.000 secondi nel 200G sono 50.000 secondi perciò un anello tra una famiglia 200 e una famiglia 300 non è possibile perché parliamo di due standard diversi per cui l'anello deve essere fatto oltre 100 o 200 ma eventualmente può essere fatto un anello non tramite questi protocolli di ring ma tramite il protocollo spanning tree in questo caso ovviamente utilizzando lo spanning tree non siamo nei tempi né di 50-200 millisecondi né di 20 millisecondi ma siamo nell'ordine di 2-3 secondi spanning tree invece è standard ed è trasversale per entrambe le soluzioni e alla fine qua vediamo un po' le soluzioni vediamo un po' quello che lo switch all'interno ha una macchina a tutti gli effetti layer 2 completa di funzionalità mentre infinissimo abbiamo proprio concluso la serie 300 come vedete anche la parte di layer 3 e perciò della parte di HCP per cui è importante nel caso vogliate di HCP vi saluto ho concluso questa presentazione con ben un quarto d'ora di ritardo mi scuso con voi perché doveva durare al massimo una etta sono a disposizione in questo momento se avete delle domande per cui lo vedo ho già aperto la parte di chat vi ringrazio intanto per l'attenzione di essere stati con me per tutto questo tempo rimango perciò in silenzio per qualche secondo in attesa di vedere se ricevo domande oppure fermerò la registrazione e concluderò questo break grazie ancora a tutti per l'attenzione ok mi sembra che le domande non ce ne siano ah ok ci sono stavo chiedendo esiste un tool per la scelta del prodotto questi tool sono disponibili per i partner plus cioè nel senso che bisogna registrarsi come partner plus e per cui se ne occupano soprattutto i colleghi delle parti vendite che possono aiutarvi e supportarvi e sono dei tool disponibili insieme a un'altra serie di tool che sono presenti all'interno sostanzialmente